L'innocenza della precarietà, questo è il titolo di questa mostra che si tiene a Pescara. Siamo con Silvia Moretta, curatrice della mostra. Vogliamo un attimo parlare di questa mostra e soprattutto di questo titolo. Cosa significa? Sono lieta di tornare al Circo Laternino perché questa mostra sarà inaugurata sabato sera dalle 21.30 proprio in un luogo a me molto caro. L'artista è Denis Bacchetti. Quindi inauguriamo la sua mostra personale dal titolo appunto Tutuiat, Innocenza della precarietà. L'artista è un pittore astratto che ricongiunge tramite la sua pittura, si ricongiunge a tutto quel filone dell'astrattismo informale perché nella sua opera c'è anche una forte componente segnica e gestuale e il titolo è una parola segreta, definiamola così. È in effetti il mostro visualizzato dal pittore al tempo della formazione del suo immaginario, quindi quando era piccolo, il tempo dell'infanzia. Peraltro l'inaugurazione sarà ricca di contaminazioni, se posso definirle così, perché diversi artisti intellettuali hanno partecipato anche alla redazione del catalogo della mostra Tutuiat. Poi una grande novità, al Circo Laternino entrerà un pianoforte a coda che sarà suonato da due compositori e pianisti che sono appunto Marco Arturo Messina e Mario Mariani. Ultima novità sempre per la sera dell'inaugurazione, avremo la proiezione in anteprima assoluta di due cortometraggi che hanno il titolo Bon Vol di Bacchetti, Sciolet e Torzolini del 2015 e L'uomo nero proprio di Flavio Sciolet.